Stiamo a vivere la finalissima che si terrà il 16 e il 17 luglio al Gifon Experience, il 16 per le scuole primarie e il 17 per le scuole secondarie di primo grado. Tante novità, soprattutto tanto entusiasmo intorno al progetto. Le tematiche affrontate sono l'integrazione, l'immigrazione, la legalità a 360 gradi, quindi bullismo, cyberbullismo e soprattutto il valore dell'amicizia. L'amicizia e il rispetto dei valori, perché noi partiamo da un presupposto, quello che la scuola, perché è un progetto rivolto agli istituti scolastici, la scuola debba inculcare questi valori, fin da piccolissimi, per poi cercare di formare quello che è l'adulto del domani. Quindi per avere una società sempre più sana e con valori è necessario anche affrontare queste tematiche in maniera creativa e innovativa e noi cerchiamo di fare questo con scolori. Quindi i bambini sono gli autori e gli attori del loro video e della loro idea. Si tratta di piccoli video, quindi cortometraggi, della durata massima di 7 minuti. I ragazzini di scuole elementari si sono improvvisati come attori, come registi. Quali sono state le domande più frequenti? Ma davvero tante, nel senso che loro hanno una spontaneità e una genuinità unica, quindi girare con loro è sempre una continua scoperta e una continua sorpresa. Sono dei bambini tutti molto entusiasti di partecipare, quindi le loro domande sono come mai facciamo la stessa scena tante volte, per esempio. Perché per girare un video di 7 minuti noi stiamo lì, pure poco, perché stiamo lì in una giornata, una mattinata. E per loro invece, ma noi 7 minuti, che ci vuole? Perché stiamo lì tanto tempo a fare le riprese da tutte le angolazioni? E quindi cerchiamo di spiegare loro che servono diversi punti di vista, diverse angolazioni, diverse inquadrature e poi ovviamente la scena viene ripetuta più volte. Però devo dire che la parte che preferisco di più è proprio il backstage, che poi noi montiamo nelle tappe di avvicinamento, perché sono quelle che svelano l'anima di Sponbui, quindi tutto quello che c'è dietro, il lavoro. E' un buon uso di questa spettacolare iniziativa che avrà sempre più. Ciao!